Entrano in campi i RIS per fare luce sul caso dei due anziani morti e nascosti da un familiare nella legnaia di casa. Il reparto della scientifica verrà incaricato ufficialmente dalla procura della Repubblica di Rovigo di effettuare analisi approfondite sui poveri resti di Nerina e Italo Barattella, fratello e sorella di Sant'Urbano i cui cadaveri sono stati ritrovati a maggio nella legnaia dell'abitazione che i due condividevano con Federico Bernardinello. Quest'ultimo, figlio di Nerina e nipote di Italo, avrebbe nascosto i corpi per mesi e forse anni per incassare la pensione dei due anziani.